Sono partiti i saldi con un cauto ottimismo da parte dell'associazione di categoria. L'indagine di Confesercenti indica una spesa per zona di 122 euro e di 280 euro a famiglia. Tra i consumatori c'è voglia di approfittare dei saldi di fine stagione. Secondo un'indagine nazionale condotta da Confesercenti in collaborazione con SVG su un campione di 600 commercianti e 1500 consumatori di tutta Italia, c'è interesse per gli acquisti a prezzi scontati. Solo il 25% non approfitterà di saldi e un consumatore su due, il 48%, ha già deciso che approfitterà comunque dell'occasione per fare almeno un acquisto, valutando di investire mediamente 122 euro a persona pari a circa 280 euro a famiglia. Nelle previsioni di ConfCommercio invece il budget degli aritini dovrebbe restare lo stesso del 2018, superiore a quello della media nazionale di 140 euro a persona, 167 euro pro capite, circa 400 euro a famiglia. Le aspettative di molti negozianti restano alte, commenta il presidente provinciale di Federmoda, Paolo Mantovani, ma tutti sono consapevoli che l'interesse dei consumatori per i saldi è stato mitigato dalle promozioni importanti che hanno segnato il mese di novembre nei giorni del Black Friday e che hanno rallentato un po' anche lo shopping natalizio.